e ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione ieri vi abbiamo mostrato le ruspe che abbattevano l'ex scuola Mariele Ventre oggi parliamo di una nuova demolizione che non sta passando inosservata anche perché sta cancellando un'immagine simbolica della zona orientale parliamo dell'ex passificio Antonio Amato pilastro dopo pilastro va avanti l'intervento per riqualificare l'intera area dove sorgerà un nuovo complesso urbanistico pezzo dopo pezzo si smonta e si lavora nella cerniera tra mercatello e mariconda la demolizione dell'ex passificio Antonio Amato da oggi nell'area del cantiere hanno preso il via anche i lavori di demolizione veri e propri dopo una chirurgica operazione di taglio che pilastro dopo pilastro ha smontato la parte dell'edificio più a ridosso della linea ferroviaria una modalità che è stata concordata d'intesa con RFI attraverso una serie di incontri che ha consentito di effettuare la demolizione in sicurezza e senza interrompere il traffico ferroviario e si scrive così anche la parola fine dietro un edificio che dopo essere stato orgoglio di salerno nel mondo ha finito per racchiudere degrado e abbandono ci sono generazioni di abitanti di mariconda che si sono svegliate la mattina con la sirena che annunciava l'inizio delle attività all'interno dell'ex passificio amato da tempo ormai rudere di archeologia industriale abbandonato e non privo di episodi di sicurezza come un incendio la morte anche di una persona folgorata dopo che si era introdotta all'interno per rubare del rame poi dietro il grande edificio che per decenni ha caratterizzato il profilo del quartiere di mercatello c'è anche tutta la storia del fallimento del marchio antonio amato che provocano un progetto di riqualificazione urbana a trasformarlo attraverso la mano dell'architetto jean novelle in un'isola di architettura internazionale l'ex passificio antonio amato è stato dismesso dal 2011 e rivenduto all'asta nel 2017 per 3 milioni di euro alla società intesa immobiliare di roberto aversa oggi si prevede la realizzazione in un'area di circa 18 mila metri quadrati di tre strutture mentre 15 mila metri quadrati saranno dedicati a parcheggio e parco l'intervento insediativo si chiamerà mulino nuovo e sarà un progetto innovativo che ospiterà 110 abitazioni attività commerciali un parco attrezzato e un parcheggio di due piani sottoterra bene parliamo adesso anche di aeroporto dell'inchiesta che ha riguardato il primario di cardiochirurgia enrico coscioni di disturbi alimentari di autonomia differenziata sono infatti questi alcuni dei temi che il presidente della regione campagna vincenzo di luca ha affrontato questa mattina incontrando gli studenti del liceo da procida di salerno credo che oggi ci siano colloqui da parte degli indagati io sono molto sereno molto fiducioso in ogni caso i servizi saranno garantiti al livello più alto che abbiamo in italia quindi nessun problema mi auguro sinceramente che questa vicenda si risolva rapidissimamente rapidissimamente per la prima volta da quando è scattata l'inchiesta che ha sospeso quattro medici della torre cardiologica ruggi di salerno ed in particolare il primario enrico coscioni consulente del presidente vincenzo de luca sulla sanità il governatore è intervenuto sulla vicenda chiedendo ai magistrati di chiarire in termini ultra rapidi le presunte responsabilità de luca ha partecipato questa mattina ad un incontro presso il liceo scientifico da procida di salerno sui disturbi alimentari e come sempre ha parlato a cuore aperto con i giovani partendo dalle sue origini umili per ribadire ancora una volta tra i ragazzi la necessità di essere orgogliosi delle proprie radici di essere liberi di non inseguire mode e stili di vita di lusso de luca parlando agli studenti nel corso di un incontro dedicato ai disturbi alimentari che ha visto tra i presenti anche lo chef gennarino esposito ha chiesto ai ragazzi di allontanarsi dalla moda del consumo dei superacolici così come da quella di indossare sempre un'arma il ferro ha detto utilizzando il linguaggio dei giovani poi c'è stato spazio per ricordare la crisi dei valori davanti ai genocidi che dal mal mediterraneo gaza ucraina e poi ancora una volta il riferimento ai test di medicina e alla sua battaglia sui pericoli legati all'autonomia differenziata differenziata significa che avremo una sanità forte e ricca nelle altre regioni avremo la morte della sanità nel mezzogiorno in Italia mi pare evidente e abbiamo anche spiegato che qui davvero in discussione l'unità d'Italia non si scherza più almeno per quanto riguarda sanità come servizio universale scuola pubblica come servizio universale e ho fatto l'esempio se facciamo contratti integrativi regionali per i medici quindi oltre il contratto nazionale autorizziamo le regioni forti a fare contratti anche regionali è chiaro che avremo una fuga di personale dal sud dal nord davvero il nord è morto bisogna combattere perché davvero siamo arrivati a un punto limite poi uscendo dall'incontro e soffermandosi con i giornalisti il presidente espresso anche la sua soddisfazione per quanto sta avvenendo all'aeroporto costadamalfi di salerno in attesa della riapertura ai voli dall'undici luglio rivendicandolo come un suo successo questa è una delle scelte infrastrutturali di cui vado più orgoglioso sinceramente erano decenni che parlavamo dell'aeroporto di salerno finalmente è nato abbiamo fatto l'operazione di unificazione con gesac avremo i primi voli già questa estate ho visto che abbiamo voli importanti verso londra berlino dobbiamo prepararci per tempo un aeroporto che funziona noi qui avremo se dio vuole quasi tre milioni e mezzo di viaggiatori in quattro cinque anni questo cambia il destino dei territori dobbiamo essere pronti con servizi di qualità con il prolungamento della metropolitana è un altro risultato che abbiamo ottenuto quindi stiamo lavorando già per prolungare la metropolitana salerno all'aeroporto è una di quelle infrastrutture che cambiano davvero il destino di un territorio la giornata tra gli studenti del da progita si è chiusa con un simpatico siparietto la rappresentante dell'associazione mulieres salernitane ha donato al presidente un ritratto fatto durante il periodo del covid e conservato nella scuola per l'impossibilità di consegnarlo direttamente nelle mani del governatore che oggi ha finalmente ricevuto e gradito l'omaggio come dicevamo il tema dell'incontro che si è svolto presso il liceo da procida di salerno era quello legato ai disturbi alimentari tantissimi relatori presenti lo chef gennarino cannavacciolo ma anche i rappresentanti dell'asl il professore corrivetti la dottoressa grandinetti e naturalmente anche il direttore generale dell'asl con il quale abbiamo ribadito quelli che sono i servizi offerti dall'azienda sanitaria contro i disturbi alimentari che interessano i giovani noi abbiamo una serie di centri a livello di regione campania siamo una delle regioni più performanti lo dicevamo prima che ci sono all'interno del panorama nazionale insieme ad emilia e romagna qualche altra regione all'avanguardia da questo punto di vista ma abbiamo un'offerta di circa 12 centri su scala regionale e abbiamo una punta di diamante che è il nostro centro di salerno unico centro residenziale per quanto riguarda i disturbi dell'alimentazione che sia dal punto di vista dell'intercettazione del problema siamo ad una media di oltre 150 visite annue per quanto riguarda disturbi dell'alimentazione ma abbiamo raggiunto il target di 200 ricoveri negli ultimi quattro anni è uno dei centri meglio allestiti nel mezzogiorno italiano contiamo di potenziarlo siamo partiti con otto posti di ricovero la media di ricovero di circa tre mesi per questi ragazzi che hanno disturbi alimentari e contiamo di siamo già arrivati a 12 contiamo di arrivare a 20 posti letto grazie allo sforzo che regione campania sta facendo proprio in questa settimana ed intanto a proposito di minori e di comportamenti non corretti sono state individuate in due ragazze minori le autrici delle scritte alcune delle scritte che hanno imbrattato la facciata del complesso monumentale santa sofia grazie anche a delle riprese effettuate dalle telecamere del sistema di video sorveglianza i vigili urbani in particolare quelli del nucleo decoro urbano hanno incastrato alle loro responsabilità le due ragazze grazie ad un'operazione che ha visto impegnati gli agenti della polizia municipale di salerno ed in modo particolare il nucleo operativo di decoro urbano e polizia ambientale diretto dal capitano mario elia sono stati individuati gli autori delle scritte che avevano imbrattato e deturpato la facciata del complesso monumentale di santa sofia in largo abate conforti nel centro storico di salerno sulla facciata del monumento erano infatti apparse diverse scritte e disegni effettuate con l'utilizzo di bombolette spray a seguito di indagini effettuata anche grazie all'ausilio delle riprese delle telecamere del sistema di video sorveglianza del comune di salerno ma anche attraverso una serie di informazioni acquisite sui luoghi il personale della polizia municipale di salerno è riuscito ad individuare i responsabili dell'episodio di vandalismo si tratta di ragazze minorenni una volta identificate il comando di polizia municipale ha trasmesso l'esito delle indagini alla procura della repubblica presso il tribunale dei minori le autrici del grave gesto vengono accusate del reato previsto dall'articolo 518 nel caso specifico avvenuto deturpamento imbrattamento di beni soggetti a vincolo per questo tipo di reato sono previste pene severe intanto restiamo nel centro storico di salerno dove si leva un altro grido di allarme ed è quello relativo alla scomparsa di tante attività commerciali bar e ristoranti viviamo con grande preoccupazione le numerose chiusure e la forte recessione economica che sta coinvolgendo il capoluogo si legge in una nota congiunta firmata da forza italia e forza italia giovani il gruppo consigliare di forza italia a salerno un allarme che ci induce a doverose considerazioni circa il futuro commerciale di questa città zone fiorenti come via roma che interessava principalmente la ristorazione la movida o come il corso vittoria e manuele sono oggi il segno di un decadimento a cui come cittadini siamo tenuti ad opporci i coordinamenti degli azzurri insieme con il gruppo consigliare di forza italia hanno annunciato che organizzeranno presso un primo incontro per ascoltare i rappresentanti delle categorie coinvolte e per iniziare un percorso che offra la visione di un futuro fatto di benessere per i cittadini che vivono di imprenditorialità e di auto impiego ed ora una notizia di cronaca che ci porta a scafati dove i carabinieri hanno fermato con la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e di presentazione alla polizia giudiziaria un 48enne l'accusa nei suoi confronti ed estorsione l'indagato attraverso una minaccia aveva infatti costretto il proprietario a consegnare 2000 euro per rientrare in possesso dell'autovettura che gli era stata rubata torniamo ad occuparci di autonomia differenziata in modo particolare le conseguenze sul dimensionamento scolastico al centro dell'iniziativa promossa dalla cgl che domani prevede una doppia tappa anche a salerno la presentazione dell'iniziativa stesso paese stessi diritti questa mattina nella sede di via manzo del sindacato sono due le tappe si comincia con sapri e poi qui nel capoluogo se noi abbiamo scelto due tappe partendo dall'estremo sud della provincia cioè la città di sapri perché a parte che è la zona più a sud della provincia ma è anche una delle zone più interessate al spopolamento sono tutti paesi e piccoli paesi che ogni anno perdono centinaia di abitanti proprio perché soprattutto i giovani lasciano le nostre zone poi faremo tappa a salerno a mezzogiorno nella zona delle scuole al sud di salerno dove incontreremo la comunità scolastica i politici locali gli studenti tutti coloro che vorranno dire con noi no all'autonomia differenziata un'autonomia differenziata che tende a dividere l'italia soprattutto il sistema di istruzione che potrebbe essere parcializzato in 27 sistemi diversi tra i tanti temi quello che noi abbiamo la necessità di portare avanti è quello del dimensionamento scolastico la regione campania e in particolar modo la provincia di salerno sono stati già particolarmente colpiti da questa operazione eminentemente ragioneristica che ha portato ad una riduzione delle istituzioni scolastiche accorpamenti che danneggiano sostanzialmente il buon andamento delle attività didattiche e mettono in condizione tanti piccoli paesi di non avere più sedi scolastiche che sono presidio di legalità sul territorio. Ancora una notizia di cronaca dalla valle dell'Irno dove i carabinieri della stazione di Baronissi hanno eseguito una misura cautelare che prevede il divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un trentunenne di mercato sanseverino accusato di atti persecutori nei riguardi dell'ex compagna. Il provvedimento è scaturito infatti dal fatto che la donna aveva presentato una denuncia querela nei confronti dell'indagato che non accettando la fine della relazione in diverse occasioni l'ha minacciata di morte. Andiamo adesso a Pagani dove invece questa mattina si è proceduto alla demolizione di una struttura abusiva dove si vendevano carciofi arrostiti. E' stata abbattuta questa mattina la struttura in lamiere adibita per anni a rivendita di carciofi arrostiti all'angolo di via Perone a Pagani. Un polipo meccanico ha buttato giù in poco tempo quel che restava dell'attività commerciale abusiva che è stata posta sotto sequestro lo scorso ottobre. Il manufatto in lamiere era risultato privo di alcuna autorizzazione peraltro realizzato in un fatto di strada di competenza della società autostrade. Il sindaco di Pagani Lello De Prisco ha accolto l'occasione parlando anche dei prossimi interventi che riguarderanno strutture abusive in via Malet e piazza Corpo di Cristo. E oggi arriviamo ad un punto in cui anche su sollecitazione di autostrade italiane perché parlato di via sul ponte quella era un'area diciamo demaniale per cui quella che era una baracca verrà messa giù. Ma invece quello che mi preme sottolineare è che stiamo lavorando alacremente, aspettiamo soltanto alcuni pareri della sovrintendenza perché abbiamo dei capitoli ma che sono già in essere da diverso tempo per l'abbattimento della pescheria in piazza Corpo di Cristo e di quel manufatto in via Malet al ridosso della chiesa del Corpo di Cristo. Restiamo a Pagani dove invece i carabinieri hanno arrestato con l'accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti un 22enne. I carabinieri infatti durante una operazione di controllo hanno eseguito una perquisizione a casa dell'indagato ritrovando sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 100 grammi già suddivisa in dosi. Continua in tutta la provincia di Salerno l'importante e prestigioso percorso messo in piedi dall'Associazione Meridiani per promuovere tra i più giovani il tema della sicurezza stradale in vista poi della tappa finale in programma a maggio a Napoli. In vista dell'appuntamento finale quello in programma l'8 maggio 2024 al Teatro Mercadante in piazza Municipio a Napoli con la premiazione anche del concorso Inventa una soluzione per la sicurezza stradale continua tappa dopo tappa il road show Sii Saggio Guida Sicuro. Ieri è stata la volta del comune di Sant'Egidio di El Monte Albino che presso il centro di quartiere ha ospitato l'evento con i saluti affidati ad Antonio Lamura, sintaco di Sant'Egidio del Monte Albino, la presenza naturalmente anche dell'Associazione Meridiani che organizza il progetto coinvolgendo le scuole del territorio con lo scopo di sviluppare incontri di educazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale presso gli istituti scolastici di primo e secondo grado e presso le università Alla sua decima edizione il progetto ha incontrato ad oggi oltre 30.000 studenti e degli atenei anche della campagna in 22 incontri realizzati quest'anno sono stati formati oltre 5.200 studenti. L'obiettivo è educare i giovani a comportamenti responsabili e corretti per una guida sicura coinvolgendo le amministrazioni comunali secondo una priorità basata sull'incidentalità registrata sulle tratte stradali di competenza Nel corso degli incontri i partecipanti sono coinvolti emotivamente anche dalla testimonianza diretta di chi ha vissuto la tragica perdita di persone care Innanzitutto è stata esaudita quella che era la nostra richiesta che io avevo rivolto al consigliere regionale Franco Piccarone che ringrazio di inserire Sant'Egidio in questa tour di 14 appuntamenti e quindi stamattina siamo qui a Sant'Egidio per questa tematica sentita a giorni d'oggi la sicurezza stradale sicurezza stradale che vedrà gli attori principali saranno i nostri alunni della scuola media inferiore la scuola è basilare su tutti i settori ma specialmente in modo in questo settore quella della sicurezza stradale perché i bambini, gli alunni, in questo caso io parlo di bambini perché noi qui a Sant'Egidio abbiamo solo scuole medie di primo grado non ci sono le scuole superiori ma devono essere educate devono essere, diciamo così, dati tutti quei supporti informativi anzi io sono per inserire nei programmi didattici anche l'educazione stradale perché rappresentano i presenti e rappresentano i futuri quindi educarli nel saper rispettare le regole in quel di rispettare non solo se stessi ma avere la consapevolezza che la propria libertà termina quando inizia la libertà degli altri quindi stare nella società, educare al rispetto degli altri ai pedoni, agli altri automobilistici quindi si parte dalle scuole, secondo me prima scuole elementari primarie, scuole medie inferiori andando avanti fino all'università, di trasmettere quanto più educazione stradale La Regione Campania sta sperimentando questa azione di formazione in formazione diretta soprattutto ai giovani, ragazzi delle scuole superiori e dell'università per diminuire le statistiche molto pesanti che riguardano gli incidenti stradali e le morti per incidenti stradali abbiamo fatto una finanziaria che ha disposto un programma triennale di formazione e siamo contenti del lavoro fatto l'anno scorso oltre 5.000 ragazzi, 55 comuni quest'anno abbiamo implementato ancora di più questo programma speriamo che le altre regioni seguano a ruota perché l'Italia è il paese fanalino di coda per queste statistiche veramente è una vera e propria guerra tra 3.000 morti all'anno, circa 8 morti al giorno dobbiamo assolutamente intervenire e sensibilizzare soprattutto la fascia più a rischio che è quella dei giovani Stamattina siamo alla 22esima tappa del progetto Sisaggio Guida Sicuro siamo quasi al termine del percorso che si concluderà il giorno 8 maggio in Piazza Municipio con l'allestimento del villaggio e la premiazione presso il Teatro Mercadante c'è ancora tempo per presentare al concorso di idee gli elaborati da parte degli studenti delle scuole primarie, secondarie e degli studenti universitari che è un contributo di idee per quando attiene la sicurezza stradale un contributo che nasce anche da questi incontri che noi teniamo con gli studenti delle scuole nei comuni della regione Campania un contributo che serve a chi è preposto alla sicurezza stradale nel proprio lavoro quotidiano per fare in modo che gli incidenti diminuiscano i morti sulle nostre strade Ora come sempre spazio alla nostra rubrica dedicata a segnalarvi alcuni eventi Al Cinemateatro San Dementrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi è in programma il film di Paolo Virzi un altro ferragosto con Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Cristian De Sica e Laura Murante tra gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22 ingresso intero 7 euro ridotto 5 euro il giovedì non festivo ingresso unico 5 euro per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it Andiamo, ti divertirai, te lo prometto Adesso ci sono le previsioni del tempo e poi come sempre spazio allo sport in collaborazione con De Filippis Pneumatici, centro driver Pirelli Vendita e assistenza pneumatici per auto, moto, scooter, trasporto leggero e agricoltura Da 70 anni, leader a Salerno Ci trovate in Via delle Calabrie 93 e in Via Ricci 23 2000 metri quadri di servizi ad alta tecnologia Ecolibratura e convergenza laser Assetto ruote con nuova tecnologia 3D Basta scelta di cerchi leggera Esclusivista a Salerno di tutti i marchi moto Concessionario ufficiale Pirelli Mezzeller Bridgestone Firestone Cyberlink Dallop Goodyear Yokohama Michelin E tanti altri Da noi troverete scelta, cortesia e affidabilità De Filippis Pneumatici Il passato, il presente, il futuro Previsioni per domani Al mattino, sulle coste, molte nubi con deboli piovigini In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita Nel pomeriggio, sulle coste, molte nubi con deboli piovigini In montagna, molte nubi con deboli piovigini Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo Ed eccoci dunque con la parte del nostro Tg dedicata all'informazione sportiva Mancano 10 giornate alla fine del campionato Che per la Salernitana e i suoi tifosi sta diventando un vero calvario A Granata, l'ambiente chiede una prova d'orgoglio Contro il Lecce, fischio d'inizio domani alle 19 Fiacca la prevendita Altro segnale dello scoramento che si è impadronito della tifoseria Granata Ci sono 30 punti in palio nelle restanti 10 partite di un campionato Che si sta rivelando un calvario per i tifosi Granata La Salernitana deve salvare quantomeno l'onore e la dignità Affrontando col massimo impegno il rush finale di stagione E provando anche a conquistare quei punti che finora sono mancati all'appello Il presidente Iervolino ha sferzato ancora una volta tutti Dai direttori sportivi agli allenatori fino alla squadra Ed ora c'è curiosità per verificare la risposta di chi andrà in campo Altrettanta curiosità, se non di più, c'è anche per l'atteggiamento della tifoseria Nei confronti della proprietà Il presidente ha mal digerito critiche e contestazioni Ma ha anche detto di poter andare avanti con un progetto improntato a riscatto Dopo una stagione fallimentare Solo si avrà il pieno sostegno della piazza Un messaggio che si presta a tante interpretazioni Che può essere sottilmente ma non tanto divisivo Nella misura in cui ci dovessero essere contrapposizioni Tra pro e contro Iervolino Si continua a non considerare che il problema principale Sia non più stabilire le responsabilità Quanto esporre una chiara linea di azione Con un programma preciso, serio, maturo Perché dopo tre stagioni in cui si è fatto apprendistato in massima serie Ora dall'attuale proprietà ci si attende una svolta sotto questo aspetto Il pugile forte si vede dopo il primo K.O. Quando deve rialzarsi E così anche una società di calcio, forte e solida Deve dimostrare capacità di reazione Ma ancor più di visione e programmazione Anche quando le cose non vanno per il meglio Tutto il resto è filosofia spicciola Speculazioni dialettiche Non solo che lasciano il tempo che trovano E non si è chiusa nel migliore dei modi L'esperienza triennale di Fabio Liverani Sulla panchina del Lecce Il tecnico domani affronterà per la prima volta da X La sua squadra C'è attesa per le scelte di formazione Ma anche per la risposta di tutto il gruppo Dopo l'esternazione del patron Iervolino La salentana ha rifinito a questa mattina Almeri Rosi la preparazione in vista Della gara di domani con il Lecce Alle 18 alla Rechi Parole non certo improntate all'ottimismo All'entusiasmo Da parte di Fabio Liverani Che ha fatto insomma Professione di anche grande realismo Probabilmente anche il tecnico Non crede più nella rimonta E ha constatato che anche dalla squadra Fiduola non siano arrivati segnali In controtendenza rispetto a questa considerazione Per quanto riguarda le scelte di formazione In vista del match domani con il Lecce Liverani ha detto che anche Fazio è in dubbio E dunque in difesa però c'è il ritorno di Ghiomber Almeno tra i convocati Potrebbe giocare dal primo minuto Pirola Con probabilmente Boateng In una difesa a due O si potrebbe tornare al difesa a tre A quel punto ci sarebbe spazio anche Per lo stesso Ghiomber Possibile qualche avvicinamento Anche dalla cintola in su Liverani ha detto Sono debitore in un certo senso Nei confronti di Vignato e Martegani Chissà che domani Almeno uno dei due non possa trovare spazio Nell'undici di partenza Ma ascoltiamo proprio le parole di Liverani Che è anche ex del confronto con il Lecce Dieci partite Queste credo importanti un po' per tutti Anche per delineare a questo punto il futuro Visto che è molto difficile questa rimonta salvezza Lei crede che ci siano comunque in ogni caso Le basi per poter guardare avanti Anche con sicuramente in Serie B a questo punto Con la Salernitana E che questa possa essere una motivazione Anche per i suoi ragazzi Per giocatori che magari hanno il futuro Un po' più incerto E quindi da qui vedere In campo facce nuove Giocatori che lei non ha considerato prima Per valutarli proprio in ottica futuro E poi le chiedo un parere su questo Lecce che lei conosce molto bene Come ambiente Sarà un avversario anche qui Piuttosto ferito Una delle squadre che sta andando peggio Insieme alla Salernitana in questo 2024 Grazie Allora Io credo che sia giusto che tutti quanti noi Cerchiamo di dare il massimo Sia per questo che può essere il finale di stagione E sia per chiunque deve continuare la carriera Nei propri ruoli Quindi calciatori Chi è a scadenza per cercare di convincere altre persone A farsi fare i contratti Chi è sotto contratto Far vedere se ci si può contare Per il futuro della Salernitana E quindi credo che questo dovrebbe essere Internamente uno degli obiettivi di ognuno di noi Anche dei calciatori Sulle possibilità di giocare Io credo che questa squadra Ti ripeto In quattro partite Ha giocato quasi totalmente la rosa Ti ripeto Forse solo Vignato E forse un altro Martegani ha giocato Ecco loro sicuramente sono i due giocatori Che non hanno avuto possibilità L'avranno sicuramente da qui alla fine del campionato Però non deve passare il messaggio Che siccome la stagione è andata Devono giocare tutti a prescindere Credo che il messaggio sia sempre quello poi Della settimana Questo non vuol dire Perché sennò divento Non capito Che Vignato e Martegani Non si meritano di giocare Anzi Forse loro due Sono quelli che io Gli devo qualcosa in più Per come si allenano Per come si comportano Però in generale Poi la formazione È dalla voglia Dalla determinazione Che si mette nella settimana È evidente che da qui alla fine Però bisognerà fare Delle valutazioni Di tutti i calciatori E anche dei tesserati della Serenitana Per il futuro Sul Lecce Sul Lecce Il Lecce sta dentro Insieme ad altre Cinque o sei squadre Credo che Il campionato delle volte Si ha delle percezioni sbagliate Anche per il Lecce Forse perché era partito troppo bene Però credo che il Lecce Come le altre squadre Stanno facendo Quello che è il loro campionato E lotteranno fino all'ultimo secondo E quindi poi dopo questo Lo decreterà La classifica finale Però è una squadra Che lotta È una squadra Che gioca Giovani Che hanno voglia Che hanno fame Quindi è una partita difficile Sono ancora più feriti Dal cambio dell'allenatore Ed è una squadra Che va Va presa Con le molle Perché poi hanno qualche giocatore Secondo me Di grande talento Come Anquist Fortunatamente Banda È un altro giocatore forte Squalificato Sansone è un esperto Cristovic è un buon giocatore Insomma È una squadra Che lotta E che anche se viene da un primo negativo È stata sempre dentro le partite E quindi Non è una partita semplice Però è una partita Che noi dobbiamo provare a vincere Per dare un segnale Volevo chiederle se Ha avuto modo di leggere Le dichiarazioni del presidente Iervolino Anche in merito Alla distribuzione Delle responsabilità Per questa stagione Ha detto Inzaghi l'avevo scelto io Oliverani L'ha scelto Sabatini Ha bisogno di tempo Insomma diamogli tempo Volevo chiederle Se lei In questo momento Si sente anche Di Candidarsi Tra virgolette Per il futuro Della Salernitana In un progetto Che magari Insomma potrebbe ripartire Purtroppo Gli fatti in questo momento Questo dicono Dalla Serie B Che è una categoria Che In questa società Presidente E allenatore E direttore Non hanno mai fatto E invece lei si C'è la Serie B No Non ho avuto questo pensiero Ho letto Non ho letto molto Questa settimana Perché Ho cercato di leggere Il meno possibile E quindi non ho letto Le rassegne stampa Però insomma Il pensiero del Presidente Arriva un po' Da tutte le parti Credo che il Presidente Possa esprimere Giustamente Quello che ritiene Più opportuno Non ho avuto Un pensiero Così lungo tempo Ti dico la verità E Quindi Sulla Serie B Non è proprio Una considerazione Che ho preso In questo momento A prescindere Che l'ho fatta Sono stato anche Bravo e fortunato Perché l'abbiamo vinta Ma non credo Che oggi sia importante Insomma Quello che sarà Luglio Questo è il pensiero mio Il Lecce Arriverà a Salerno Privo Dell'esterno D'attacco Banda E con Luca Gotti Al debutto in panchina Il tecnico Ex-Udinese E Spezia È stato scelto Dal direttore sportivo Salentino Corvino Per sostituire D'Aversa E condurre Alla salvezza Il Lecce Dopo la seduta Di rifinitura Gotti Ha presentato La partita di domani Io mi auguro Spero Perché poi Le partite come quella di domani Sono partite Per Per gente vera E parlo sia delle persone Che dei giocatori di calcio Perché sono partite Che hanno Un loro peso Una loro importanza Tutti siamo consapevoli Di questo E allora Quello che sarà Ce lo dirà il campo Quello che vorrei Che fosse È Quellecce Che tira fuori Tutte le qualità Che ha Che spesso voi Avete avuto occasione Di vedere Che avversario Invece Si aspetta È una cosa Di cui mi sono occupato Pochissimo In questi giorni Ho pensato Solamente a noi Solamente a noi Nella scelta Di una settimana Cortissima E di tante cose Da prendere in mano Quella Dell'avversario Di domani L'ho cercato Di Di Lasciarla lì È chiaro Che la squadra Avrà Non mi viene la parola Adesso Uno spartito Uno spartito Saprà Le caratteristiche Della Serenitana Quelle che ritengo Le caratteristiche Principali Che la squadra Deve conoscere Ma poi non siamo Andati veramente Ad occuparci Nel dettaglio Come Capita sovente La cura Di tutti i dettagli In campo Perché c'era Secondo me È più la necessità Di pensare A quello che dobbiamo Fare noi Più che a quello Che può O non può Fare la Serenitana E adesso Una notizia Che riguarda La palla a mano Domani alle 20 La Iomi Salerno Tornerà in campo Nel massimo Campionato Di palla a mano Femminile La capolista Giocherà Sul campo Del mezzo Corona Fermo Invece Il campionato Maschile Di A Silver Per gli impegni Della nazionale Turno di riposo Quanto mai Opportuno Per la Genea Lanzara Che spera così Di recuperare Qualche acciaccato Ed ora anche Una notizia di Basket Sotto canestro L'ultima fatica Della fase ad orologio Per la Sirio Salerno Le granatine Saranno ospiti Del Benevento E sono già Proiettate Nella fase Playoff Per quanto riguarda Invece Il campo Maschile È fermo Il campionato Di serie B Nazionale Con la Virtus Arechi Che si prepara Allo sprint Salvezza In quello interregionale La Power Domenica Sarà di scena A Sala Consilina Per un derby Decisivo In ottica Playoff Promozione Ed era l'ultima notizia Vi ringraziamo Dell'attenzione Per questo TG Arrivederci Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvogisalerno.it E clicca su TV Oggi On Demand TG TG Oggi TG FU